Grazie a tutti. Algo! 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 che meraviglia chissà da dove vengono sono qui quelle loro tende forse le tende sono già sparilesse da altri cosa del suo relogio guarda che roba ti è è bene, è bene casio? vediamo, guarda come è orgoglioso che lo vuole far vedere mi smetto il silone il silone è spento la buddha terra il sigaro che cosa sarà? è il silo, quello che si usa per esempio il silone è convinto di fumare ma lui sei un attore lo fa per il pubblico non è ormai sono si no è vero occhiali da sole e simbolo sulla fronte sono modelli in posa guardateli bellissimi guarda questo qui questi sono buddisti l'hanno fatto piccolo altarino l'hanno fatto piccolo altarino e sono qui non so che fanno mi ricade un po' voi la thornata una città una città e una città una città Per chi è perizia? 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.